Entra nel vivo l'organizzazione per la visita del Papa il prossimo 28 agosto per la perdonanza. Ieri in Prefettura si è svolto il primo comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica proprio su questo tema. Ciò che assicura è che sarà un evento popolare nei limiti del possibile. Chiaramente il Papa non vuole escludere la comunità, ma la sicurezza andrà studiata nei minimi dettagli. Il programma di massima è confermato. Il Papa arriverà presto in elicottero nel piazzale dello Stadio Gran Sasso per arrivare poi in macchina a Piazza Duomo dove alle 9.15 incontrerà i familiari delle vittime del sisma per un saluto. Al termine si trasferirà nella Basilica di Colle Maggio e sul piazzale alle 10 celebrerà la Messa, l'Angelus trasmesso in Mondovisione con il rito di apertura della Porta Santa. Al termine rientrerà subito a Roma tornando in auto allo stadio dove l'elicottero lo riporterà in Vaticano. Nel corso del vertice in via preliminare sono stati valutati gli aspetti di sicurezza che vedrà la collaborazione delle forze di polizia locale con la gendarmeria vaticana. L'Aquila è pronta a fare la sua parte. Naturalmente si tratta di un evento eccezionale sotto tutti i punti di vista e naturalmente dovrà far conciliare le necessarie misure di sicurezza e di safety con la partecipazione popolare perché questo è quello che il Papa vuole e ce l'ha ribadito il Cardinale Petrocchi con anche il clima gioioso di quel periodo. Non vogliamo snaturare la perdonanza perché non è questa l'intenzione neanche della Santa Sede. Dovremo essere molto puntuali ma credo che daremo le risposte necessarie. Dal momento che la Porta Santa verrà aperta di mattina cambia un po' la tradizione. Il corteo dovrà necessariamente cambiare programma. È certo che si farà ma non il 28 agosto come confermato dal sindaco per Luigi Biondi ai microfoni di Rete 8. C'è un principio che il corteo si farà. Naturalmente non si farà il 28 per ovvie ragioni di sicurezza e anche di organizzazione ma il corteo lo faremo e nei prossimi giorni definiremo anche le modalità.